Scaffali quasi vuoti e coda interminabili ai benzinai. Sono alcune delle inevitabili conseguenze prodotte dallo stop degli autotrasportatori. Nei supermercati la merce per ora non manca, anche se è scarsa. Eppure, come sostiene Vincenzo Celamare, direttore dei supermercati DOC, già da domani le conseguenze saranno ben più gravi di quelle alle quali si è dovuto fronteggiare oggi. Fortunatamente l'azienda in questi giorni ci ha fatto approvvigionare di merce, ma un punto vendita del genere, qual è il mio, che lavora veramente tanto, per fortuna riusciamo a sopravvivere oggi, ma da domani in poi la gente inizia a trovare veramente tanta tanta roba mancante. Un paio d'ore prima dell'apertura mattutina infatti tutto era pronto per accogliere la merce, ma sono arrivate solo frutta e verdura. Questa mattina abbiamo avuto lo spiacevole inconveniente che il camion che normalmente ci arriva tutte le sante mattina dalla piramide, della piattaforma piramide di Molfetta, dove il gruppo Megamark fa capo, non si è presentato perché ci hanno detto che c'è stato un blocco, quindi hanno bloccato tutte le uscite dei nostri camion e quindi merce in consegna sia in questo punto vendita qui in Bari che negli altri nostri punti vendita. Merce non ne arrivava da nessuna parte, quindi siamo rimasti veramente spiazzati. E come vedete il disagio non è soltanto nei supermercati, ma anche per i benzinai. Alle mie spalle è tanta la gente, tanta la coda di gente che sta cercando di fare rifornimento, eppure sono appena alle 18 ma già è terminato il gasolio e per la benzina c'è anche il rischio che non tutte le macchine riescano a fare rifornimento. Corsa alla benzina, qual è il timore? Il timore perché devo andare a lavorare domani, dopodomani devo fare diversi chilometri. Temo di che si esaurisca, di rimanere a piedi. Comunque ce la dovrei fare a farle il pieno. E temo che finisca pure, dobbiamo andare da qualche altro benzinario a trovarla, no? Sperando di trovarla. È stata una cosa improvvista così, non sapevo niente.